Buongiorno ciao sono qui a Londra St George Hospital uno dei più grandi ospedali di Londra con il dottor Sabak Semer che mi ha invitato per fare il punto sul grill laser che lui utilizza da molto tempo e per fare il passo successivo alla vaporizzazione anatomica. Semer, qual'è il tuo giorno per la vaporizzazione anatomica? È un giorno molto buono, ho piaciuto tutto. Grazie Giovanni, è stata una really great opportunity and I've been doing laser now for more than a year and indeed you gave me in detail or insight on how it should be done even the standard PVP but now adding the anatomic PVP it's really great thing to learn from you so thank you very much it's really great great opportunity. Thank you for your hospitality, yesterday we had a great dinner. Certainly, certainly that was very nice as well we enjoyed the dinner and today is fantastic day for me I really learned a lot. You will be a perfect anatomical vaporization will be done and in the future the next step will be the green lip. Certainly that's something I hope to learn in the future as well from you thank you very much fantastic thanks ciao 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 ciao